Allora c'è ancora una coda a piazza del plebiscito, andate sulla sinistra per riempire la piazza. Grazie, grazie a tanti ragazzi, facciamoci un applauso per favore, un applauso da tutta la piazza, quarantottesimo circolo, sessantesimo di barra. Facciamo salire i rappresentanti delle forze dell'ordine della magistratura e dell'avvocatura. Ringrazio il questore Marino, il comandante De Vitoa, il comandante della Guardia di Finanza, le scuole, quarantottesimo, sessantanovesimo, primo di Paliano, De Amici, Sravaschia di Napoli, quarantottesimo circolo, secondo di Cragnano, Siani di Marano, Giancarlo Siani di Torre Annunziato, Annunziata, Guarati di Napoli, Ungaretti di Cragnano, ventatresimo di Napoli, cinquantesimo di Scicelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti.